Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite 2 Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite una band, metal Allora, a questo punto, la prima cosa, noi non è che il nome non lo pronunciamo bene Ma a questo punto vogliamo farcelo dire dal gruppo il nome della band Allora, la band si chiama Extinction Extinzione Extinzione E non perché, ma la prima domanda viene spontanea Voi siete nati nel 95, nel 96, poi dopo vi siete fermati Ma soprattutto per quale motivo questo Extinzione Che poi è un nome abbastanza semplice Ma poi alla fine è comunque complesso nel suo genere Allora, Extinction Allora, la band è stata attiva tra il 95 e il 97 in provincia di Lecce Nel 97, poi per motivi di lavoro, mi sono trasferito su Torino E nel 2014 ho rimesso sulla band con nuovi musicisti E siamo qui adesso a parlare del terzo album Da 2014 ad oggi Insomma, in breve, è andata così Il nome Extinction A me è venuto in mente così all'epoca Perché era uscito l'album Countdown to Extinction E questa quella Extinction mi piaceva all'epoca Insomma, ecco, ed è nata così Che poi comunque si avvicina molto alle tematiche che affrontiamo Principalmente che sono tutte un po' sull'attualità Su... Sulle manipolazioni dei governi Insomma, un po' tutte... Tutte queste cose che praticamente portano l'uomo più a po' all'estinzione Tra virgolette Quindi è nata un po' così la cosa Se dovesse descrivere oggi chi sono gli Extinction Come li descriveresti? Diciamo che con la premessa che io sono arrivato poi oggi Negli Extinction, se vogliamo Perché è vero che la band è nata poi Nella seconda metà degli anni 90 Ma io sono arrivato poi nel 2018 Nella band Quindi effettivamente se dovessi descrivere io oggi Cos'è Extinction L'estinzione per la band Effettivamente è rimasto poi Il concetto degli anni 90 Che aveva poi Diciamo Elaborato Danilo Anche perché La storia poi recente Partire da un certo anno in poi Ci ha insegnato che viviamo in quello che Viene chiamato il periodo del terrore E tutto quello che era stato predetto Poi prima dalla band Diciamo in qualche maniera Si è avverato Negli anni di inattività E successivamente anche negli anni In cui abbiamo ripreso poi insieme in mano Le redini della cosa Quindi secondo me il nome è azzeccatissimo Ancora oggi E a questo punto io parlerei del Del nuovo disco Quando nasce questo disco Come nasce Anche perché c'è stato un periodo di Dal 2017 ad oggi E c'è stato sicuramente un po' di tempo Per una grande maturazione Grande Come nasce questo disco E soprattutto come si è evoluto Per poi raggiungere questo risultato Allora il disco è un po' figlio Diciamo del lockdown Del periodo recente che abbiamo passato un po' tutti Nel senso che Stando in casa Ci siamo mandati vicendevolmente delle idee E così abbiamo elaborato i pezzi Da casa tra virgolette Per poi ritrovarci poi tutti insieme Una volta finita la pandemia Mettere un po' tutti insieme le idee Praticamente L'album è nato in questo modo Praticamente c'è stato C'è stata sicuramente un'evoluzione Rispetto al precedente album Di Apocalypse Mark Molto Sicuramente per quanto riguarda il livello tecnico E anche per la produzione Che è veramente notevole Quindi siamo pienamente soddisfatti Di questo album Cryogenesis appunto Mi veniva spontaneo C'è anche un videogioco Non è che Involontariamente vi siete anche ispirati a questo videogioco Giusto per curiosità Non conosco Non conosco videogiochi Non seguo tanto Se Filippo sa qualcosa No di Cryogenesis No Onestamente Ne sento parlare Proprio in questo momento Anche perché io Al momento Come videogiochi Nel poco tempo Che mi è rimasto Riesco a giocare ogni tanto Neverwinter online E qualche volta Mi faccio ancora qualche run Su Skyrim Ma proprio Capita ogni morte di papa Quindi non Questa cosa Non la sapevo neanche io Nella realizzazione dei testi In questo caso Nascono prima le parole Nasce prima un riff Un beat Un qualcosa Oppure Possiamo dire Accidentalmente Nascono insieme Nasce prima la musica Prima il riff Poi viene messo un po' tutto insieme Vengono Provate le varie parti Di batteria Di basso Successivamente Poi Quando qualcuno ha un'idea Si adatta poi Al pezzo Quindi prima la musica Successivamente I testi Poi se vogliamo parlare Della Della tematica Che è Affrontata appunto Nella copertina Del disco Appunto c'è scritto Cryogenesis Ovvero Cryogenesis Praticamente Tratta Di un qualcosa Che Attualmente è reale Ovvero La Delle persone Una volta morte Prima di morire Appunto Firmano dei contratti Dove alcune parti del corpo Vengono Congelate Nella speranza Che un domani Ci sia la tecnologia Adatta Per farle ritornare In vita Con assemblamenti Con parti meccaniche Cyborg È tutto molto scientifico Però È un qualcosa Che Reale Nel senso Che comunque C'è chi Una volta morto Vuole essere Trattato In questo modo Quindi appunto Cryogenesis È una tematica Del transumanesimo In poche parole L'utilizzo Del Voi Scrivete E in inglese L'utilizzo Dell'inglese Al contrario Della lingua italiana Dove Spiegare un discorso Bisogna essere Un po' più longevi Invece Nell'inglese A volte Si può essere Più sintetici È più facile A questo punto Ottenere il risultato Migliore Con l'inglese Oppure In questo caso Pensate in italiano E poi traducete il testo Anche se Diciamo In quest'album Io Ho Contribuito Alla sesura Di un solo testo Comunque Ho scritto Parecchi testi In passato È la dinamica Con la quale Riscrivevo La stessa Che utilizziamo qua Allora C'è da fare una considerazione Secondo me Comunque Opinione personale Il cantare Un testo in inglese È molto più semplice Che cantarlo in italiano Soprattutto Quando si utilizzano Approcci Quali Il grow Lo screaming E voci Diciamo Un po' più estreme Perché La lingua italiana È molto musicale Molto bella Da cantare Ma Utilizziamola Per altre Diciamo Per altri generi È più facile Cantare in inglese Perché La maggior parte Del Secondo me Sempre La maggior parte Delle parole Comunque Vengono chiuse Con delle consonanti Quindi anche La prestazione Poi Del Finale Risulta essere Diciamo Meno Faticosa Per l'artista Soprattutto Quando magari Non è proprio Un professionista Del Settore Per quello Che riguarda Invece La La stesura Del testo La difficoltà Che Ogni tanto Io riscontro E Non essendo Io madrelingua inglese Pur conoscendo Abbastanza bene L'inglese Alle volte Vorrei spiegare Un concetto Come Se lo dovessi Spiegare in italiano Devo fare attenzione A Non cadere Nel tranello Che Fa sì Che Quello che per noi Può essere Un modo di dire Un gioco di parole In realtà In inglese Poi non vuol dire niente In sostanza Quindi Da parte mia C'è anche Uno studio Di quelli che possono essere Poi I modi di dire Dell'inglese Quelle volte Io Utilizzo anche Dei giochi di parole Comunque Dei veri Proprio Limerlich Parole costruite Di senso inventato Adesso Quegli extinction Non ho ancora avuto Modo di farlo Però tendenzialmente Io Per fare Tutto quello Che ho descritto Il testo Lo penso Già in inglese Io faccio fatica A pensare Un testo in italiano Per poi tradurlo Anche perché I testi che scrivo Anche se poi Alla fine Li canto prevalentemente In grolo In screaming Cerco sempre Di dargli una sorta Di metrica Una sorta di musicalità Se lui dovesse Cantare un cantante Che canta Power metal Per dire Adattando la canzone Potrebbe utilizzarli Senza problemi E ho notato Che anche i testi Che scrive Danilo Hanno bene o male Questa Questa caratteristica Nel disco Comunque Abbiamo sentito Diversi Modi di suonare La musica Perché Non c'è Soltanto Ci sono Tanti ritmi Tante situazioni Di conseguenza Non è soltanto Come si dice In alcuni casi Qualche Chi non ascolta Questo genere Musica Casinara In realtà È molto complessa Nel suo genere Ma soprattutto È difficile Anche da suonare Quindi Ci sono Tante armonie Nel Nel nuovo disco Ti ringrazio Molto Per questa osservazione Comunque È vero È un disco Molto vario In genere Che Nella musica Estrema I pezzi Sono Molte band Cercano di essere Molto monolitiche Diciamo Unidirezionali Noi invece Cerchiamo di spazializzare Molto Infatti Come avrei notato Un pezzo Si distingue Dall'altro Ci sono Ambientazioni diverse Melodi diverse Ed è È un album Molto ricco Insomma Dove Le idee Un po' di tutti Sono state messe insieme E abbiamo raggiunto Questo Questo suono Caratteristico Proprio della band Non cerchiamo Di fossilizzarci Troppo Su Su uno stile Su un qualcosa Cerchiamo anche Di sperimentare Di Di ottenere Qualcosa di nuovo Invece Suonare dal vivo Poi parla Ti trasmette Quell'energia Nonostante voi Siete concentrati Però Quell'energia La sentite Che la ritrasmettete Al pubblico Qual è la vostra Sensazione Le emozioni Che provate Le sensazioni Che provate In quel momento Ma innanzitutto La prima parte Con la quale Ho introdotto Il discorso Io mi ci trovo Tantissimo Nel senso che Io tutte le volte Che devo andare A fare un concerto Ma fosse Dietro casa Fosse 800 km E più di distanza La sera prima Penso sempre Ma chi me l'ha Fatto fare Potevo starvene a casa Trovarmi un lavoro Qualunque Poi soprattutto Quando arrivo Sul palco I dieci minuti Precedenti All'arrivere Sul palco Sono agitatissimo Addirittura Devo sempre Dire alle persone Che suonano con me La prima Mezz'ora Prima che Iniziamo a suonare Se vi rispondo male Se vi mando A quel paese Non fateci caso Perché In quel momento Non sono io Sono io che sono Paranoiato Agitato Penso che le cose Vadano male Poi invece Appena Arrivo sul palco Comincio a Cacciare fuori I primi urli Diciamo Passa tutto E Mi sembra Veramente di vivere Solo per quello Cioè Perché Man mano Che passa il concerto Io Come un countdown Che mi fa capire Stiamo arrivando Verso la fine E più andiamo avanti Più dentro di me Stare in una sorta Di depressione Per dire Vorrei che Non finisse mai Vorrei ricominciare Un'altra volta Da capo E E Questa è un po' Anche la curva Di quella che è la mia vita Normalmente Comunque Quindi per me Salire sul palco È veramente qualcosa Di Se dico importante Non gli do Abbastanza giustizia Quello che Trasmetto al pubblico Non Non lo so dire Io Di mio Me lo Me lo dovrebbe dire Il pubblico A me Se vuoi aggiungere qualcosa Danilo Noi siamo qui Per ascoltarti No ma è come Come ha detto lui Praticamente Sono Sì Gli attimi prima Sono quelli un po' più Di nervosismo Chiamiamolo così No Però io Appena Appena parti il pezzo Finché non parti il pezzo C'è la tensione Però una volta che Iniziamo a suonare tutti insieme In quel momento Svanisce tutto So di essere In quel momento Il protagonista La gente Mi sta guardando Però Di resto Poi scivola tutto via Insomma L'attenzione Sparisce E invece Nel momento in cui Scendete dal palco Che vi incontrate Le persone Davanti Avete delle persone Oltre che vi chiedono L'autografo per il ct Oppure un selfie Ma ci sono quelle domande In cui Nonostante tutto Non vi aspettavate Che vi facevano Oppure vi facevano Una citazione Di un pezzo Di un brano Dicendo E voi Vi siete rimasti Sospesi Perché hanno capito In fondo Quel piccolo messaggio Che volete dare Siete riusciti A ottenerlo Che sensazione A quel caso Provate Se avete provato Quella sensazione Non so Filippo Tu cosa diresti Ma Secondo me Quando Precapita Alle volte Che Arriva la domanda O Anche l'osservazione Inaspettata Che Può arrivare Sia in termini positivi Che anche in termini negativi Comunque Devo dire che Quando Arriva Un'affermazione Che pur essendo Un'aspettata Trovo Coerente A prescindere Da quale sia L'osservazione Mi dà Un grande senso Di soddisfazione Perché vuol dire Che nel primo caso Sono riuscito A comunicare Quello che volevo Comunicare Nel secondo caso Ho avuto una conferma Di qualcosa Che non andava bene E E quindi Sono pronto A Rimettermi al lavoro Per migliorare Laddove già sapevo Che qualcosa Non Non funzionava A maggior ragione Poi quando La cosa è Inaspettata Alle volte Apprezzo Molto di più Diciamo La critica Che non Che non Di complimento In determinate situazioni Poi è chiaro Che i complimenti Fanno sempre piacere Sono sempre Danno sempre La carica Comunque Per andare avanti Abbiamo visto Più volte Comparire il CD A questo punto Se ti dovessi chiedere Che qualcosa Di particolare Nella realizzazione Del disco Anche perché È stato fatto Molto tempo Perché abbiamo detto Lockdown Tante cose Ma se ti dovessi Raccontare Un qualcosa Di eneduto Di particolare Nella realizzazione Del disco C'è qualcosa Di particolare Che vi viene in mente Soprattutto perché È stato o stressante O divertente È stata Una novità Chiamiamola così Abituati Diciamo In passato Di trovarci Almeno una volta A settimana In sala prove Per trovare i pezzi Vedersi tutti insieme Qui è stato Un po' diverso Cioè Con la lontananza Passandoci Tramite mail Le nostre idee Quello Che stavamo Componendo E tutto quanto Mettendo tutto insieme È stata una novità Comunque molto stimolante Che ha portato Un prodotto Che neanche noi Ce l'aspettavamo Alla fin fine Sì Divertente Però Io sono Un po' più Alla vecchia mania A me piace Comunque Vederci un po' più spesso Vederci di persona E creare insieme La musica Qua è stata Andata In una maniera Un po' diversa Però Alla fin fine Il risultato È più che eccellente Invece Viene L'altra domanda Al cantante A questo punto Qual è stata La prima sensazione Quando hai incontrato Il gruppo Davanti Ce l'hai avuto il gruppo E avete suonato Per la prima volta A quel punto Che sei entrato A far parte Della band Qual è stata La tua sensazione Di dire Ha incontrato Non posso dire Quasi sani Ma facendo Questo musica Possiamo dire Parzialmente sani Di una band Che è Veramente brava E forte Ma allora Innanzitutto Danilo lo posso dire Come ci siamo conosciuti Comunque Noi 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 Praticamente Quando Quando Danilo Ha deciso Di Riformare Gli Extinction A Torino Nel duemila E sedici Quattordici 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 Sono vecchiotto Anch'io adesso Aveva Contattato me Per primo Per Per mettere Sulla band Solo che io Non avevo Tempo E ai tempi Non avevo Interesse Di entrare In un altro Progetto di musica Estrema Diciamo Quindi Quindi non Non mi avevo Neanche interessato Comunque Di Fargli sapere Se ne può parlare Sentiamoci Fammi sentire qualcosa Perché Proprio In quel periodo Lì Non potevo E non avevo Neanche Diciamo Quello stimolo Per ritagliarmi Del tempo Per fare qualcosa Di più La band Poi si avvia Per Per conto suo Io Vengo Poi a conoscenza Dei nuovi Extinction Attraverso i canali Attraverso Il videoclip Attraverso il disco Attraverso Uncuni articoli Su Metal Hammer E mi mangio Anche un po' Le mani Perché Nel frattempo Il mio gruppo Precedente Si era arenato Definitivamente Con il senno Di poi Mi buttavo Subito In questa Diciamo In questa nuova Avventura Quando Danilo Mi ha ricontattato Anni dopo Perché C'era bisogno Di sostituire Poi La sezione Vocale A momenti Non gli davo Neanche il tempo Di mettere giù Il telefono Che ho già in sala Prove Con il microfono Pronto A fare Il provino Diciamo Mi sono trovato Subito Molto bene L'unica cosa Che Diciamo Che ho già detto Altre volte Che mi aveva Fatto un po' Paura Era poi Il giudizio Da parte Dei fan Che già ascoltavano La band Poiché io Subentravo A una cantante Come cantante Gli extension Prima Erano conosciuti Come female band La mia preoccupazione Era comunque Di non essere Accettato Comunque Dai fan Diciamo Quelli più Stretti Più Diciamo Lo zocco duro Fortunatamente Fortunatamente Non è andata Così Fortunatamente Me la sono cavata Diciamo Diciamo Abbastanza bene E siamo ancora qui Che andiamo avanti E andremo avanti Ancora a lungo Spero Abbiamo visto Un videoclip Che è comunque Molto Accattivante C'è qualcosa Di particolare Potete raccontarci Di questo videoclip Come è stato Studiato Come è stato Poi realizzato L'ultimo videoclip Sì Il videoclip È del brano Doors of Perception Testo in questo caso Scritto da Filippo Poi dopo Se vuole raccontare Un po' Di cosa parla Niente Il videoclip Ce l'ha fatto In Biolex Studios Quattorino Praticamente Gente molto esperta Nel settore Dei video Il risultato È eccellente Perché c'è Un'ottima regia Si vede Appunto Niente Però Potevamo anche Fare un po' Di più Però diciamo Che per motivi Economici Ci siamo attenuti Diciamo a un video Dove siamo noi A suonare Però se si guarda bene Il tipo di inquadrature L'ambientazione È veramente Qualcosa di spettacolare Se poi Filippo Volesse aggiungere qualcosa Sul testo Della canzone Che visto che l'ha scritto lui Si diciamo Il testo della canzone Non viene poi ripreso Particolarmente Sul videoclip Appunto Perché è un video Diciamo Di ripresa Dove noi stiamo suonando L'unica cosa Diciamo Che siamo riusciti A A mettere Nella trama Anche per dare un senso Anche al cantato È stato Dividere Comunque Le parti Le parti vocali Perché Io canto Comunque con diverse linee vocali Non uso sempre la stessa linea Quindi abbiamo cercato Perché io li vedo Anche di inquadrature Di abbigliamento Comunque Di differenziare Come se fossimo due cantanti Che cantano nello stesso video Quando in realtà Poi sono Sono sempre solo io Da quel punto di vista Non riprende tantissimo Quello che il contenuto Della canzone Perché il testo Perché il testo Punto d'Orso Perception Si rifà Le porte Della percezione Di Axley Argomento Che a me Comunque sta Sta molto a cuore Però siccome La canzone Aveva comunque Un bel tiro Comunque Perciò L'ivelo di impatto Nel suo complesso Era un peccato Diciamo Scartarla Per fare un videoclip Di un altro brano Quindi siamo Più che soddisfatti Di quello che È venuto fuori Vediamo il logo Nel caso tuo Vediamo il logo Della band Dietro Come nasce Questo logo Perché vediamo Possiamo dire Che sono due flecce O due lance Incrociate In questo caso Ma Chiamiamole Due lance Però il logo Stilisticamente Si rifà molto Alle band Death Trash metal Di Fine Anni 80 Inizio anni 90 Insomma Su quello stile Tipo di sepoltura Quelle cose là E infatti I sepoltura Tra l'altro Sono tra Rientrano anche un po' Delle nostre Influence Sono Insomma E quindi Niente Il logo Era molto più Artigianale Ai tempi In cui la band Era attiva Giù Nel provincio Di Lecce Poi praticamente Nel 2014 Con la reunion L'ho un po' elaborato L'ho perfezionato Tutto quanto Ed è venuto Questo bel logo Che ce lo portiamo Ancora oggi Dietro Insomma E progetti futuri Si parte per una tournée Dal vivo Sicuramente Allora Sì Ci sono alcuni Live Interessanti Adesso Prossimi Abbiamo uno A Vicenza Di spalla Ai cadaveri Crematorium Che sono un gruppo Storico Italiano Death Metal E poi Suoneremo Il primo luglio Suoneremo In Germania Dove abbiamo Anche suonato Di recente Il primo aprile Quindi io Ho fatto Avendo parecchie Conoscenze In Germania Comunque la cosa Un po' aiuta Quindi Sono in contatto Con un po' di persone In Germania Essendo bilingue Quindi Tra virgolette Ho questa fortuna Chiamiamola così E quindi Niente Poi comunque Ci saranno Delle date Molto più importanti Più in avanti Di cui ancora Non voglio dire niente Però vediamo Vediamo cosa succede Dai Invece A questo punto Io ti volevo chiedere Nel tempo Adesso La band Mi ha detto Che siete passati Da una ragazza Da una donna All'uomo Qual è stato Musicalmente A livello di suoni Il cambiamento Che c'è stato Perché lui ha una voce Veramente incredibile Perché Veramente Riesce a fare Riesce a tenere Tanti suoni Passare però Da un suono femminile A un maschile E riuscire a ottenere Comunque Grandi risultati Qual è Il segreto Però qui L'aspetto tecnico È più forse Da musicista Comunque Se la domanda Sì Diciamo È Il passare Da 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 Ragazza A un ragazzo Comunque Noi alla fine Musicalmente Cosa abbiamo cambiato Poi niente Perché le accordature Comunque sono rimaste Le stesse Correggimi se sbaglio Sono rimaste Le stesse Allora Rispetto a The Monarch Slaves Il primo album Che avevamo fatto Con Alice La nostra ex cantante Eravamo accordati giù Un semitono Adesso siamo accordati In gre Un tono Sotto Diciamo Un tono giù Conte Filippo E Quindi ciò Comunque Aiuta Secondo me Molto Diciamo Nella versatilità Della voce Infatti Rispetto a Da dice Tu sei molto più Versatile Hai un range vocale Molto più ampio Da quello che Noto io Insomma Perfetto Io guarda Io intanto Vi ringrazio Per essere stati ospiti A questo punto Ci mancano Prima cosa Ci mancano I saluti finali E soprattutto Gli indirizzi Di dove potervi raggiungere E soprattutto Comprare il disco Ok Innanzitutto Ti ringraziamo Per l'intervista Per questa Bellissima occasione Per quanto riguarda Gli indirizzi Allora Questo album Potete trovare Un po' in rete Un po' dovunque Però se volete Contattare direttamente Noi La band Potete farlo Direttamente Sui nostri canali social Sia su Facebook O Instagram Oppure andare sul sito Bandcamp Cercarci E lì Trovate il CD Potete Scaricarvi l'album In digitale Comprare merchandising Eccetera Eccetera Oppure Per chi Non volesse Legge di fisico C'è sempre Spotify E tutte le varie Piattaforme digitali Ma l'album Si trova dovunque Oppure La stessa etichetta Nostra La punishment E team records Ha un suo Negocio online E quindi Lo si trova un po' dovunque Io chiedo a tutti Gli ascoltatori Di seguirci E Di seguire un po' Le nostre Future mosse Ecco Io vi ringrazio Tutti quanti Per Per il tempo Nel quale Speriamo di non avervi Annoiato Comunque E E niente Grazie Grazie davvero Studio 7 TV E sport piciano game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della vita